Benvenuti in questa nuova sezione. In questa sezione andremo a parlare di audio in presa diretta. Come è facilmente intuibile, questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme. Quindi se vedete che vi manca qualche nozione, andate a vederlo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. Quindi che cos'è la presa diretta? La presa diretta è tutta quella parte di acquisizione dell'audio che viene utilizzata per riprendere non in studio. Quindi non è quella parte di voiceover, ma è la parte di set, di reportage, insomma tutta quella parte di acquisizione dell'audio. Per farlo ci sono diversi metodi, ci sono diversi strumenti che ci permettono di farlo, che vanno a seconda del tipo di lavoro che si può fare. Infatti per esempio c'è la presa diretta televisiva dove si utilizzano i microfoni gelato, c'è la presa diretta cinematografica dove si utilizzano i microfoni shotgun o i cosiddetti boom. Ci sono i contesti televisivi, per esempio da podcast, dove si utilizzano i microfoni a banco, come abbiamo detto prima. Però ci sono delle condizioni nelle quali un videomaker si troverà. Quindi un videomaker si troverà a dover affrontare delle situazioni, quindi dei set, dove avrà bisogno magari di microfoni più versatili, di microfoni più duttili, che gli permetteranno di fare più di un lavoro. Quindi in questa prima parte più teorica andiamo a spiegarvi quali microfoni vi consigliamo all'inizio, quali microfoni è bene acquistare e soprattutto perché. Dopodiché andremo ad affrontare una parte pratica dove vi faremo vedere effettivamente come si prende l'audio a seconda del microfono e della situazione in cui siete. Quindi ovviamente adesso andremo a parlare di questi microfoni. Chiaramente sono tutte delle nozioni che abbiamo detto già in precedenza, mi raccomando se qualcosa non è chiaro andatevelo a rivedere. Allora, cosa consigliamo ad un videomaker che inizia ad approcciarsi con l'audio, quindi quando si rende conto che l'audio camera non è soddisfacente? Sicuramente bisogna andare ad acquistare un microfono del genere. Eccolo qui. Quindi questo qui è della Rode, una marca che noi di base consigliamo sempre ed è un microfono NTG, in questo caso si chiama Videomic NTG ed è un microfono shotgun. Quindi un microfono che può essere utilizzato per direzionare l'audio verso lo speaker che sta parlando. Quindi questo audio volendo potrebbe essere montato anche in questa posizione qui. Quindi potrebbe essere montato anche a mo' di boom. Quindi con un'asta è un po' più complicato perché lui è piccolino, non ha l'innesto e non ha l'alimentazione per essere alimentato con un microfono boom. Però questo tipo di microfono volendo potrebbe essere utilizzato anche per questo motivo qua. E perché è importante lo consigliamo? Beh, sicuramente per il costo, perché è un costo relativamente accessibile, per la qualità dell'audio che ci offre, ma soprattutto perché ha la possibilità di essere alimentato, vedete, direttamente con lo USB-C. E questo ci fa capire che il nostro microfono ha una batteria integrata. Quindi dovremo soltanto ricordarci di spegnerlo o comunque non dovremo sostituire le batterie. Ora, cerchiamo di non fare una recensione prodotto perché sicuramente non è questo il caso, non dobbiamo parlare di un prodotto specifico. Ma perché lo shotgun o comunque questo tipo di microfono è essenziale per un videomaker alle prime anni? Beh, sicuramente perché ci permette di avere innanzitutto un audio molto pulito nel caso in cui noi volessimo realizzare dei dialoghi o delle interviste. Quindi per esempio per uno spot pubblicitario può essere utilizzato, quindi magari dei piccoli sketch, delle piccole interviste. Chiaramente soffre un po' quelli che sono in forti rumori, quindi non isola tantissimo, però ci dà la possibilità di utilizzarlo in questi contesti. Secondo punto, questo microfono, come abbiamo detto, può anche essere utilizzato sopra la nostra camera. Quindi noi possiamo andare a inserirlo sopra il nostro supporto, quindi questo anti-shock, che fa in modo che il microfono non abbia dei colpi e delle vibrazioni, in questo modo. E come potete vedere ha anche la sua slitta, quindi può essere innestato direttamente sulla nostra camera. Quindi matrimoni, contesti in cui dobbiamo essere leggeri, dobbiamo magari bilanciare il Ronin, dobbiamo avere il nostro accessorio. Questo, posizionato sulla nostra camera, ci dà direttamente un audio assolutamente di livello superiore rispetto all'audiocamera e ci dà la possibilità già di provare a sperimentare qualcosa di un po' più importante. Chiaramente lui ha la regolazione anche del gain, quindi noi possiamo andare, vedete, a regolare il gain per il livello di acquisizione dell'audio. Questo è il primo tipo di microfono che mi sento di consigliare. In secondo luogo, quindi subito dopo un microfono shotgun, consiglio di acquistare una pulce, un lavalier, un lavalier di tipo wireless. Non prendete lavalier a cavo, perché questo è un po' l'errore che abbiamo fatto noi all'inizio, no? Qui dire, no, prendiamo soltanto la capsula del microfono, che è questa qui, per intenderci, perché vedete che il microfono può avere solamente la capsula. Quindi questa è la capsula che si collega direttamente alla nostra camera. E subito diciamo, no, prendiamo un microfono lavalier che colleghiamo alla nostra camera, tanto le interviste si fanno sempre vicino. Beh, assolutamente no, perché poi è molto molto limitante, perché non potete muovervi, avete sto cavo in mezzo, già se dovete microfonare qualcuno che si muove o che è su un palco non lo potete fare. Quindi la cosa da fare è prendere dei microfoni lavalier. Io consiglio sempre questi tipi qua della Rode, ma come abbiamo detto prima ci sono anche della DJI, adesso se non sbaglio, che sono molto molto buoni. E questo ci consente di avere che cosa? Beh, di avere sicuramente un microfono a capsula omnidirezionale, che possiamo posizionare sul nostro soggetto, che ci dà una qualità veramente veramente alta. Isola tantissimo quello che è il contesto all'interno della nostra scena e soprattutto ci permette di realizzare riprese in movimento, prendere l'audio su un palco, riuscire a fare delle inquadrature con dei campi lunghi. Insomma, è veramente fondamentale. Inoltre, con anche questa situazione, questa configurazione, che è per esempio quella di ultima generazione, che hanno i microfoni della Rode, i microfoni wireless DJI, abbiamo anche la possibilità di avere direttamente il nostro ricevitore, che è un microfono vero e proprio, no? Quindi noi possiamo direttamente prendere questo, che è il microfono, vedete, lui ha un microfonino integrato, che permette di registrare direttamente, prenderlo e posizionarlo, vedete, direttamente così anche solo sul soggetto, oppure se voi dovete fare dei vlogging, delle cose, potete direttamente inserirlo. O anche nei matrimoni, no? Pensate, per esempio, scambio delle promesse, avete questa clip, tra l'altro questi qua da Rode li fanno anche bianchi, credo, proprio per il vestito della sposa, quindi top. Prendete questi microfonini, pam, li agganciate sul bavaro della giacca dello sposo, sul vestito della sposa, e quindi potete catturare direttamente l'audio delle promesse. E sicuramente un altro plus di questo tipo di microfoni, che vi permetterà di iniziare a sperimentare con le connessioni wireless, ok? Quindi ci permetterà di poterlo configurare in vari modi, di poterlo configurare oltre che sul soggetto, anche di capire come si comporta il wireless, quindi quali sono i limiti, le distanze, come le interferenze dei muri, delle case, vi creano dei problemi audio, e soprattutto lo possiamo agganciare ai mixer, lo possiamo agganciare direttamente alle console, magari di un evento, quindi è assolutamente fondamentale anche per poter permettervi di sperimentare. E soprattutto il sistema wireless come questo vi dà l'opportunità di non fare più tutto in camera, quindi non vincolare la vostra distanza, la vostra inquadratura, il vostro modo di lavorare in base alla distanza del microfono, perché quello che un po' accade con questo, cioè voi non potete spostarvi di troppo se ce l'avete montato sulla camera, o che anche l'intervista sarete vincolati a una certa distanza, perché più vi mettete lontano, più questo microfono non è in grado di catturare l'audio. Quindi vi permette anche di fare le inquadrature come le volete, di staccarvi un po' da quella che è la pesantezza, di avere l'audio vincolato alla camera, quindi alla sua posizione. Poi ovviamente ragazzi ci sono delle situazioni, avendo un sistema del genere wireless, di poter andare a rendere, se vogliamo, wireless tutta un'altra serie di microfoni. Perché? Perché ovviamente questo tipo di microfono rode, ma poi lo approfondiremo nella parte pratica, relativa a questi microfoni e alla presa diretta dell'audio con il lavalier, però abbiamo, come potete vedere, la connessione per il microfono esterno, oppure catturare direttamente col suo microfono integrato, come abbiamo detto adesso. Quindi cosa vuol dire? Che così io registro direttamente col microfono. Se no, gli vado a collegare la sua pulce, in questo modo, e ho l'audio della pulce. Chiaramente questi sono due elementi separati tra di loro, quindi più è buona la pulce, più ovviamente avrete un audio ottimale. Se avete una pulce scarsa, l'audio farà cagare. Quindi è questo che è proprio fondamentale. Però questo cosa ci permette di fare? Ci permette di rendere wireless e quindi inventarci delle configurazioni, un po' made a dire la verità, però possiamo rendere wireless potenzialmente qualsiasi tipo di microfono. Quindi ipoteticamente possiamo considerare questo qua, che è il Rode NTG che abbiamo detto prima, il mezzo fucile sulla vostra camera, possiamo tentare di renderlo wireless. Quindi come? Andando a collegare, vedete, col cavo mini jack, direttamente questo tipo di microfono all'altro tipo della Rode. Quindi andarlo, per esempio, a configurare in questo modo, andarlo ad attaccare su un'asta e renderlo wireless. Chiaramente poi ci sono tutta un'altra serie di problematiche che si possono andare a creare ovviamente in una situazione on-made, però potete provare a sperimentare anche queste situazioni con un microfono che potenzialmente abbiamo già visto fa 3-4 cose. Quindi è fondamentale questo come primo acquisto e lo consigliamo sicuramente. Microfono wireless, non radio ma wireless, e un microfono shotgun. Queste sono le prime due cose che secondo me dovrebbero essere acquistate. In secondo luogo poi possiamo dire tante altre cose, quindi possiamo dire che un videomaker sicuramente deve avere un buon acquisitore, perché un acquisitore, come vedremo poi nel tutorial apposta, dedicato, ci permette in presa diretta di fare tante, tante, tante cose, quindi avere tutti i controlli dell'audio, permette di monitorare benissimo quello che può essere l'ingresso dei vari microfoni, posizionare degli adattatori, posizionare vari fonti di vari microfoni diversi, permette di essere preso con una batteria che si alimenta per tantissimo tempo, qua abbiamo le batterie Sony in questo modello, lasciarlo sopra un mixer e registrare tutta una conferenza, quindi insomma un buon acquisitore sicuramente è il secondo step. E come terzo step quello che consigliamo è quello di andare a prendere tutto un sistema di presa diretta dell'audio professionale, come per esempio può essere tutto il sistema che abbiamo qua dietro, quindi un sistema con asta telescopica microfonica, con il blimp che sarebbe quella parte piazzata sopra il microfono e un microfono shotgun di livello un po' alto, perché ci permette di avere una qualità veramente ottima, una qualità audio televisiva, una qualità audio che fa assolutamente la differenza, però ovviamente è una terza opzione. Io come prima opzione consiglierei queste due situazioni qui, dopodiché sicuramente un acquisitore e poi un sistema professionale di presa diretta con asta telescopica, cuffie e tutto il resto. Poi ovviamente ci sono anche delle cose di cui non stiamo parlando, per esempio ci sono tutti quei microfoni, sempre della Rode, che possono essere adattati come microfoni gelato. Questo perché noi non ce l'abbiamo qui perché non l'abbiamo mai fatto, però giustamente se siete dei videomaker che si occupano di interviste televisive, interviste da programmi tv regionali, eccetera, sicuramente quei microfoni fanno al caso vostro, perché? Perché sono specifici per essere tenuti in mano, possono avere l'alloggiamento per gli sponsor davanti al canale, quindi sicuramente, chiaramente, se quello è il vostro focus, fate quel tipo di situazione, quel microfono è specifico per quella situazione, quindi ve lo consigliamo assolutamente. Poi dipende anche dal tipo di connessioni che avete all'interno della vostra camera, ok? Quindi se la vostra camera è alimentata, potete quindi con la Phantom, col 48 volt, potete comunque già prendere una soluzione che vi permette di agganciarvi direttamente alla camera. Se invece avete una camera che è una mirrorless, eccetera, allora lì dovete fare magari un discorso wireless di questo tipo che abbiamo appunto detto, quindi agganciarsi col 3,5 con il ricevitore sopra la camera. Ovviamente per fare un ulteriore appunto dipende oltre che al tipo di lavoro che fate, in quanti siete, quindi di come è strutturato il vostro gruppo, quindi se sei un videomaker da solo chiaramente un sistema audio di questo tipo che abbiamo detto prima non ti sarà utile più che altro perché non è utilizzabile, ok? Quindi se una persona sta facendo le riprese non può anche prendere l'audio in questo modo. Stesso discorso per i controlli che ci sono all'interno di questo acquisitore. Sono dei controlli che in teoria hanno bisogno di essere seguiti, quindi tutti i vari livelli di gain devono essere controllati in presa diretta appunto. Quindi se sei un videomaker da solo, quello che ti consiglio, adesso questo acquisitore qui è vecchio come il cucu, però ce ne sono sicuramente i nuovi e questo cosa fa? Giusto per dare un'idea di questo, non di questo strumento in particolare, ma di questo tipo di strumentazione in generale. In generale vedete che qua sopra ha la possibilità di selezionare il diagramma polare che vogliamo, quindi se lo vogliamo super cardioide, omnidirezionale, tutto il resto, ha la possibilità di registrare internamente lui, oltre che questi microfoni, e la possibilità di agganciare un microfono esterno, ha la possibilità di regolare il gain, di risentire tutto quello che è stato detto, ha anche il line out, ovviamente, quindi per fare un preascolto di quello che state facendo. Rimettiamo il coperchio perché sennò mi dà fastidio. E quindi diciamo che questo tipo di microfono qui, che ha tantissime funzioni, è veramente duttile in una maniera incredibile, è forse quello che consiglierei a un videomaker da solo. Quindi un videomaker che magari appunto va ad un matrimonio, va ad un evento, va ad una conferenza, non può monitorare l'audio, non ha un fonico, non ha l'assistente, non ha nessuno, prende questo e lo piazza un po' dove vuole. Chiaramente non può pensare con questo microfono di avere un audio pulito, per esempio, sui dialoghi, sulle interviste, a meno che non ci va a collegare una pulce, un lavalier esterno, e allora a quel punto lì, utilizzando lui come recorder, può già fare qualcosa di più interessante. Chiaramente avrà sempre l'audio staccato dalle clip, quindi ci sarà poi un lavoro da fare in post-produzione, come abbiamo detto, di sincronizzazione audio. Quindi, fatta questa premessa, dati questi consigli che sono doverosi, adesso andremo a fare tutta una parte pratica, nella quale analizzeremo da vicino il microfono lavalier, il microfono shotgun, e andremo a fare anche poi delle prove tecniche, quindi sul campo di come viene utilizzato e come è bene utilizzare questi strumenti, perché il lavalier ha tantissime configurazioni, tantissimi metodi per posizionare il lavalier, e non ne parliamo anche del microfono shotgun, quindi del boom, perché ha tantissime cose sulle quali discutere. E così anche voi potete un attimino capire se e quale microfono fa al caso vostro, quindi quale tipo di microfono e quale sistema di presa diretta è più utile a voi e fa al caso vostro, in base ai vostri lavori, alle vostre capacità e alla struttura della vostra equip. Ragazzi, il video finisce qui, vi ricordo che questo è un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sull'audio, dove trattiamo tantissimi argomenti sulla presa diretta, su come essere un vero fonico per i vostri video su YouTube, quindi se vi è mancata qualche informazione oppure ritenete di voler approfondire ancora di più alcuni argomenti, qui sotto trovate il link per trovare il videocorso completo. Io vi ringrazio tanto ragazzi, ricordatevi, iscrivetevi al canale, mettete un like, fateci vedere che questi video sono interessanti e vi piacciono e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!